Ciao a tutti ragazzi bentornati su Starlet's Tube, nuovo video a tema The Walking Dead. Come avete notato questa settimana non è uscita la reaction di questo undicesimo episodio perché semplicemente ci ho riflettuto e ho deciso che per gli episodi un po' mosci come questo le reaction è inutile farle perché non c'è niente su cui reagire. Cioè quello che dico nella reaction posso dirlo tranquillamente anche solamente qua nel video analisi perché quando non succede niente, almeno a mio parere, è inutile che diciamo spendo tempo che potrei impiegare a fare qualcos'altro che invece mi porta un po' più di visualizzazioni però diciamo che il video di analisi comunque ci tengo a farlo. Quindi diciamo che la politica per quanto riguarda i video di The Walking Dead un po' cambierà per esempio il prossimo l'ho già visto e di quello ci sarà anche la reaction perché in quello comunque qualcosa succede. Ma per gli episodi un po' di transizione un po' diciamo mosci come questo diciamo che la fatica della reaction me la evito e vi dico tutto quello che c'è da dire qua nel video di approfondimento. Questo episodio non dico che sia stato brutto, è stato anche abbastanza interessante però non è successo niente di che. È stato un episodio di transizione, il cosiddetto episodio filler incentrato soprattutto su Eugene e sulla questione di Stephanie. Vediamo appunto, l'episodio appunto si apre con Eugene e questa Stephanie che a quanto pare stanno insieme da un mese, Eugene è innamorato Cotto. Certo Eugene che dice ti amo dopo un mese vuol dire che tu hai proprio un bisogno disperato. Oppure lei ti ha proprio intortato ma proprio in maniera prepotente. Infatti lui se ne va da posto e lei gli dice ti amo anch'io. Sembra andare tutto bene, sembra tutto idilliaco. Infatti lui è tutto contento che parla con principessa di questa storia. E principessa gli dice ok devi godertela se qualcuno ti dice che ti amo vuol dire che devi godertela. Poi appunto lui, loro si erano dati appuntamento alla gelatteria, ai tavolini della gelatteria ma lei non si presenta, lui sta lì tutto il giorno con il gelato praticamente che si squaglia e tutto il resto e scopre che Stephanie è sparita. E quindi abbiamo una puntata proprio che Orazio Kane levati proprio in cui Eugene cerca disperatamente di capire che cosa è successo a Stephanie. Proprio fa congetture, ragionamenti, c'è proprio anche una mappa in cui ha appuntato, preso appunti, cose, vari spostamenti di tutte le persone che possono sapere qualcosa. Insomma, qui diciamo che Eugene rasenta un po' l'ossessione. Infatti arriva anche a commettere delle frazioni, a commettere proprio dei reati che coinvolge anche Princess in tutto questo. Però devo dire che io mi empatia assoluta per Eugene perché si è fidato di questa persona che se l'è intortato. Quindi diciamocela pure, non me la sento di giudicarlo per il fatto che ha fatto delle cagate che hanno coinvolto anche Princess anche perché poi Lance diciamo che pone fine a tutto dichiarando che Stephanie è stata trasferita e che loro possono andarsene se lui firma una carta in cui appunto dichiara di essere sotto stress e quant'altro ed è per questo che si è introdotto nell'appartamento di un'altra persona che però ha deciso di non sporgere denuncia. Poi una cosa quant'altra, Eugene però barcollo ma non mollo, trova appunto altri indizi che lo portano in questo diciamo edificio al buio in cui viene anche aggredito da delle persone e una di queste appunto è Stephanie. E vediamo appunto poi anche Lance che arriva e Eugene capisce di essere stato una pedina in questo gioco di Lance che lo ha manipolato usando questa Stephanie che alla fine non esiste, non era con lei che parlava alla radio in cui appunto cosa stavo dicendo vedete anche un po' le idee confuse in cui appunto Eugene capisce che Lance lo ha semplicemente usato per avere le informazioni sulle sue comunità perché vuole effettivamente qualcosa da loro infatti qui Lance si diciamo si mostra per quello che è un personaggio macchiavellico e ambizioso poi appunto abbiamo anche abbiamo diciamo tre storyline in questo in questo episodio questa è appunto quella di Eugene che si conclude con una minaccia a cui Lance proprio ce la fa scivolare addosso perché Eugene dice dirò a tutti chi sei e che cosa fai e lei si dice va bene farlo ma pensi che sarà un bene per la tua gente noi abbiamo portato aiuti vi abbiamo proposto di restare qui finché le vostre comunità non saranno ricostruite non vi obblighiamo a restare qua una volta che abbiamo che tutto è a posto potete tornarvene a casa vostra nessuno vi obbliga a stare qua quindi sei proprio sicuro in pratica sottointeso se tu provi a parlare io sbatto fuori tutta la tua gente e lascio il resto delle tue comunità a morire di fame quindi Eugene sente anche questo questo peso quindi appunto di conseguenza gli rivela chi è veramente Stefani che si chiama Shira che odia Iron Media perché appunto c'era stata la canzone che avevano cantato insieme che poi non l'ha cantata con quella ma con la vera Stefani che poi si mostra alla fine mentre Eugene brucia il romanzo che stava scrivendo per appunto Stefani di Fantascienza e vediamo appunto arrivare Max che è la segretaria di Pamela che si rivela essere la persona con cui ha effettivamente parlato alla radio cioè è lei Stefani anche se in realtà si chiama Max e appunto qui scopriamo anche altre cose per quanto riguarda questo personaggio scopriamo innanzitutto grazie a Connie e Kelly che stanno indagando sulla scomparsa del cameriere che ha minacciato appunto Max con un coltello e che ha aggredito Pamela e che Daryl diciamo purtroppo ha dovuto arrestare dando poi il merito a Sebastian nel decimo episodio Connie si fa molte domande si chiede perché lui ha detto quelle cose perché non ci permettono di dire la verità perché Connie comunque è una persona molto intelligente lei era una giornalista investigativa voglio rispondere ad alcune ragazze che hanno detto nella live con Kelly l'Italia in cui abbiamo fatto il momento spoiler che in realtà il giornalista non gli serve la voce deve avere questa soprattutto il giornalista e Connie Connie ce l'ha buona ragazzi Connie è molto intelligente un giornalista prima di tutto deve essere intelligente perché per quanto riguarda la voce basta che qualcuno che ti traduca quello che dici ma devi avere la testa e Connie dimostra avercela buona perché lei appunto certo parte il fatto che come capisce che Max è la sorella di Mercer va bene non lo vuole non ci voglio neanche non voglio neanche farmi ci domande però diciamo che lei arriva appunto a capire che qua nel Commonwealth insomma c'è una zona grigia anzi un lato oscuro non indifferente infatti loro lei e Kelly stanno pensando di rimanere appunto anche per capire un po' la situazione mentre appunto ne parlano viene consegnata appunto a Connie sotto la porta una lista di nomi tra cui c'è anche quello del cameriere che è stato arrestato ovvero Tyler Davis che sembrerebbe essere una lista di persone scomparsi perché appunto quest'uomo poi a un certo punto è sparito anche Mercer ci resta perché quando va appunto in ospedale per parlarci dicono che è stato trasferito ma scusate senza la mia autorizzazione non può essere trasferito nessuno e a quanto pare invece si può quindi Mercer sta vedendo la sua autorità venire scavalcata e questo non gli sta bene anche perché comunque Mercer almeno nei fumetti non è felice al Commonwealth non è per niente felice al Commonwealth lui vorrebbe che le cose cambiassero e anche qua stanno diciamo spianando la strada per questa cosa quindi sono state abbastanza carine le sue interazioni anche con Connie e tutto il resto e poi abbiamo appunto anche un piccolo spruzzo di Carol che viene portato da Lance in questo accampamento che a quanto pare fabbrica oppio per l'ospedale e Lance l'ha portata lì per metterla alla prova perché lui è lì appunto per diciamo ridiscutere alcuni termini dell'accordo e Carol scopre che quello lì il capo picchia le donne che ci sono lì ed è per questo che queste donne qua non vogliono più lavorare e quindi stava cercando di storciare il denaro a Lance con l'inganno infatti Lance lo fa portare via dei soldati del Commonwealth e guarda Carol come per dire tu sei giusta t'ho beccato so che io e te potremmo fare tante belle cose insieme dolcezza perché vi ricordo che Carol sta facendo tutto questo per permettere a Ezekiel di andare in cima alla lista ed essere operato quindi lo sta facendo e anche per tutti lo sta facendo anche per il resto della sua gente per permettere appunto a Daryl a Judith a Rosita a tutti quanti di poter far funzionare le cose in questo posto e anche insomma per poterci mettere del suo e questo va bene perché ragazzi le cose al Commonwealth non vanno bene le cose al Commonwealth devono cambiare spero tanto che i nostri facciano questi cambiamenti l'episodio appunto si conclude con Max che si presenta a Eugene come la persona che ha parlato con lui in radio e niente è stato un episodio di transizione ragazzi il cosiddetto episodio filler che lascia gli spunti per quello che poi sarà il resto della storyline quindi per questo non ho fatto neanche la reaction non c'è molto da dire quindi appunto di conseguenza anche la live di Karen d'Italia ve lo dico già subito la facciamo venerdì quindi non c'è già la live come al solito la facciamo venerdì tra gli impegni di Karen e il fatto che abbiamo anche poca voglia di parlare di questo episodio perché non è successo poi chissà che cosa non è complesso non è che è stato un brutto episodio di quelli di cui smadonni perché di quelli le reaction le faccio e vi piacciono pure ma è stato un episodio interessante ma piatto capito capito che cosa intendo è stato un episodio di transizione però nel compenso devo dire che do una medaglia a Josh McDermott per la sua interpretazione di Eugene poverino povero uomo un cuore spezzato spero che questa Max veramente me lo tratti bene ti prego abbi cura del nostro piccolo robot che parla come un verbale di carabinieri perché gli vogliamo bene quindi nel complesso ragazzi bella puntata di intrasizione però non abbastanza corposa da farci una reaction insomma bene questo video analisi dedicato alla 11x11 di The Walking Dead si conclude qui io spero che vi sia piaciuta vi ricordo come sempre che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale e soprattutto seguirmi su Instagram dove tengo sempre aggiornati su tutte le attività e soprattutto se potete trovare anche i link di TikTok e Waywayful e vi ricordo che sotto i video potete anche trovare il tasto grazie se volete ringraziarmi ulteriormente con una piccola donazione che mi può permettere di sostenermi e anche insomma sostenermi in tutti in tutti i modi però se non lo fate vi voglio bene lo stesso intanto ragazzi però iscrivetevi e cliccate sulla campanella per non perdervi i nuovi video vi ricordo poi che in descrizione trovate anche i link appunto delle pagine Facebook dedicate a The Walking Dead Cari d'Italia e The Walking Dead Ita Family Cari d'Italia appunto venerdì alle 21 saremo in live per parlare di questo episodio l'abbiamo rimandata tra il fatto che non è che abbiamo tanta voglia e poi che erano degli impegni universitari abbastanza importanti quindi di conseguenza abbiamo preferito rimandare e farla con calma però adesso appunto la pagina è ripresa a pieno ritmo sono tornate le analisi sono tornati gli screenshot sono tornate appunto anche questi i miei video che comunque li condivido anche lì insomma la pagina è tornata attiva anche con le news tutto quanto aggiornamenti tutto che di si voglia e dopo che siete stati su Cari d'Italia passate anche da The Walking Dead Ita Family anche lì potete trovare davvero di tutto aree di discussione commentari video video vari meme divertenti news che più ne ha più ne mette insomma ragazzi se amate The Walking Dead seguite queste due splendide pagine Facebook se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel pollicione su e fatemi sapere voi che cosa ne pensate della puntata se a voi è piaciuta se non vi è piaciuta perché non vi è piaciuto insomma discutiamoli civilmente ragazzi vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti